Le previsioni di assoutenti circa i rincari dei prezzi di pane e pasta trovano purtroppo conferma sia nei dati sull'inflazione di marzo dell'Istat sia negli ultimi numeri diffusi dal Mise. L'Associazione dei consumatori, che nei giorni scorsi aveva lanciato l'allarme circa gli aumenti dei listini al dettaglio, che stanno interessando beni di largo consumo come appunto pane e pasta, ha infatti elaborato i numeri sull'andamento dei prezzi nelle varie città italiane nello scorso mese, registrando rialzi in alcuni casi addirittura a doppia cifra. L'Istat registra a marzo un incremento dei prezzi del 5,8% per il pane e del 13% per la pasta, ma se si analizzano listini medi delle varie province italiane pubblicate dal Mise, si scopre che per il pane la città che nell'ultimo mese registra i rincari più elevati è Terni, con i prezzi medi che rispetto al mese precedente salgono del 9,9%, da 2,22 euro al chilogrammo a 2,44 euro, analizza Asso Utenti. A poca distanza troviamo Cremona, con aumenti al dettaglio dell'8,4% su base mensile, mentre al terzo posto, tra le città dove il pane rincara di più, si piazza Padova, più 6%. La situazione peggiora sul fronte della pasta e la Calabria si aggiudica la maglia nera dei rincari. A Catanzaro il prezzo al chilo passa in un solo mese da 1,22 euro a una media di 1,41 euro, con un incremento del 15,6%. A Reggio Calabria si registra un aumento del 13%, simile a Cosenza, più 12,5%. Il caro Bollette fa impazzire i listini del caffè consumato al bar. Lo denuncia il Codacons, che ha realizzato uno studio sull'andamento dei prezzi medi della classica tazzina di espresso nelle varie città italiane. In base agli ultimi dati ufficiali del mese, il prezzo record dell'espresso si raggiunge a Bolzano, dove un caffè consumato al banco del bar costa in media 1,23 euro.